Sono un po' scoordinati, e ognuno fa il suo, no, sono scoordinati. E però va, si sta scatenando, va. Sono scoordinati. Cioè, orizio fuori, è nata questa nuova legge. Però, hai visto la gente che c'è fuori in Russia, sarà meglio quasi chiuderli, eh. Cacchio, potremmo portarle anche noi, c'era il rischio di incendiare qualcosa. Aspetta, aspetta, senti che rifaccio qui. Allora, ti sei cagato, dovevo sorridere un po'. E io li faccio sorridere. Sono arrivati gli alieni che ci stanno distruggendo. Questo qui fa belli colorati. Il primo sotto qua è quello che ha speso più di tutti. Qui c'è la giuria, dopo diamo il premio. Qui c'è la giuria, dopo diamo una bella botta. Sono quelli delisi che hanno vinto il botto.